Da anni Laura Genco si batte per la messa in sicurezza del corso d'acqua. Nella frazione infatti, con l'arrivo delle prime piogge, il rischio di alluvioni è elevato a causa delle steppaglie che invadono l'alveo del fiume. Finalmente è arrivata una risposta alla sua richiesta di intervento. Il Genio Civile ha richiesto una somma di 100.000 euro all'assessorato dell'agricoltura regionale per fare dei lavori di pulitura del tratto di canale Fiume-Lenzi che ormai, come ben sapete, sappiamo tutti da nove anni viene messo sempre in discussione sulla pericolosità delle acque quando piove. Quindi io mi auguro che questa volta sia fatto un lavoro risolutivo in merito alla pericolosità del fiume e volevo rendere partecipe la cittadinanza di questa, tra virgolette, bella notizia poiché almeno dopo varie lotte finalmente riusciamo magari ad avere qualcosina.